Agricoltori marchigiani in Cina, con l'intenzione di farsi conoscere e mettere in vetrina le eccellenze regionali, hanno partecipato alla Fiera di Shanghai, uno degli eventi internazionali più significativi per il commercio e l'importazione. Per noi è stata una grande opportunità perché riuscire ad aprire dei canali verso la Cina per noi potrebbe essere veramente importante, soprattutto per le nostre aziende su cui Coldiretti crede molto per quanto riguarda la vendita diretta e l'export di sani prodotti agroalimentari. Coldiretti Marche ricorda che questa partecipazione si colloca in un contesto di sfida per l'export agroalimentare marchigiano, che è rimasto inalterato a differenza di quello nazionale verso il Dragone, che invece è cresciuto del 60% negli ultimi dieci anni. Nel primo semestre 2024 l'export Marche Cina si attesta intorno ai 2 milioni di euro. Nonostante vogliamo tenere la tradizione alta, siamo disposti appunto come agricoltori e come nuovi agricoltori a voler trovare nuove strade e nuove opportunità per le nostre aziende.